os 2017 40esima edizione siamo con fabrizio gerosa nello stand dell'omonima azienda leader per la produzione di packaging flessibile ci parla un po dell'azienda della sua storia il gruppo gerosa nasce bene più di 80 anni fa con mio nonno e suo fratello subito specializzandosi nell'imballaggio flessibile per prodotti alimentari uno dei nostri core business è sicuramente il mondo del caffè dove la nostra gamma di prodotti può soddisfare la clientela di questo settore dal caffè in grani macinato alle recenti e numerosi tipi di capsule compatibili presenti sul mercato ad oggi contiamo cinque unità produttive due in italia due a barcellona una in romania e abbiamo degli uffici commerciali nel nord europa in germania e in francia che cosa vi aspettate da questo ost per noi ost è una sfida è la prima volta che esponiamo qui spinti dalla presenza massiccia dei nostri clienti e possibili clienti quindi ci aspettiamo di ampliare la nostra gamma di contatti e di poterli in futuro servire al meglio i prodotti su cui puntate maggiormente ma come ho detto prima recentemente il mondo delle capsule è un mondo molto dinamico noi abbiamo tutte le competenze know how per sviluppare prodotti per il per il top delle capsule e ultimamente le capsule che più sono in voga quindi i top che potremmo servire per le capsule che sono sempre più in voga sono la dolce gusto compatibile l'an espresso compatibile